ok è una buona mano vediamo se mi ascia qualcosa sono giusto a poter giocare vai e abbiamo apparecchiato la tavola un vero problema sta nel capire andiamo a raffassare la prossima mossa anche se non dovrebbe avere nulla in mano dai 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 che veloce che mai ok il basarello è cavato e abbiamo pure lui 1,2 e 3 che bello che c'è in cima posso calare povero Tom olè effetto 1 e poi effetto 2 e diamo un altro caliamo qua io pescarmene si conviene come io pesco 2 e 3 possiamo andare il terreno è pronto e mandiamo giù a lei signor non so se è coreano o giapponese o cinese non si capisce il nome spettronisir nego 5 coperte chi temo con salute si dice con salute questo ti starta una roba assurda c'è questo c'ha 5 carte coperte allucinante devo fare una cosa allora evoco 1 c'ho come fare questo gioca la mia stessa combo chiamata sul disco va bene ok si risolve perfetto nego 1 nego 2 nego 3 nego 4 e si vince pure Edlic si vince arrangolo Edlic Quasarone ancora qui Quasarone ancora qui è sul campo è in campo Quasarone sembra che non ci sia mai qui che ho Quasarone è qui pure Edlic va a casa pure Edlic se ne va a casa Qua ah